Il Vangelo Cari fratelli e care sorelle, entriamo nel vivo del nostro cammino quaresimale. In questa seconda domenica di quaresima il Vangelo ci propone l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni su un alto monte, sei giorni dopo l'annuncio del Regno di Dio, in quel settimo giorno che in chiave scatologica rappresenta il tempo pieno del compimento delle promesse di Dio, il giorno del riposo di Dio. Ebbene, davanti agli occhi di quegli amici avviene qualcosa di straordinario. Improvvisamente i loro occhi di carne non vedono più Gesù così come fino a quel momento l'avevano visto, ma lo vedono sfolgorante di luce. Avvolto in vesti sfolgoranti di luce, parlare con Mosè ed Elia. Ecco che in un attimo si squarcia il velo di quel mistero e davanti ai loro occhi di carne si manifesta in tutto il suo splendore il mistero dell'uomo Dio e la perfetta continuità del piano di amore e di redenzione voluto dal Padre, che nel passato era stato contraddistinto dall'azione dei profeti e dei patriarchi rappresentati da Mosè ed Elia e che in quel momento trovava compimento in quell'uomo, in Gesù di Nazareth. Ecco allora che ritornano probabilmente in quel momento tanti sentimenti nel cuore di quegli amici. Certamente non deve essere stato semplice per loro vivere quel momento. Dice l'Evangelista, furono presi dallo spavento. Non compresero. Forse compresero che stavano vivendo veramente quegli ultimi tempi. Così come Gesù li aveva descritto qualche giorno prima, quando, parlando di quel mistero, disse «Non tutti morirete, ma alcuni tra voi vedranno da vivi il figlio dell'uomo entrare nel suo regno». Ecco allora perché Pietro, pur non comprendendo, dice «Signore, facciamo tre tende, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende». Ricordando forse anche la profezia di Zaccaria, che parlava proprio della festa delle tende che si sarebbe celebrata alla fine dei tempi. Improvvisamente si trovano di nuovo da soli con Gesù. compresero che non era quello il tempo. Doveva trascorrere molto altro tempo ancora, prima di poter arrivare ai tempi messianici preannunciati da Gesù, ai tempi del compimento finale. Così come Gesù ebbe a rivelare a questa donna, Maria Giuseppina Norci, in un messaggio che tanti di noi ricordano. «Si è voluto che passassero tutti questi anni», disse Gesù, «questi dolorosi anni e per poter arrivare al compimento perfetto». Ebbene, fratelli, l'attesa è finita. Una nuova era è stata annunciata in questa terra d'amore. Gesù le disse, «Il mio regno qui si stabilirà e sarà un regno di pace. Se a Betlemme sono nato qui, sono sceso per regnare eternamente nei vostri cuori». E come sono sceso la prima volta, così scendo ogni giorno, sempre. E in questo luogo sono vero Dio e vero uomo. Ecco la tenda, posta da Dio. Ecco la dimora di Dio in mezzo agli uomini. Il Monte Santo, dove tutti sono chiamati a salire. Dove il Padre ha donato una parte del suo cuore, facendo scendere su questo Monte Santo Gesù bambino, su una bianca nuvoletta, segno della presenza di Dio. Quella bianca nube che avvolge quegli amici, segno della presenza di Dio. Quei segni, quei miracoli che qui abbiamo toccato con mano, segni della presenza di Dio, una presenza viva. Perché il Signore voleva dare una prova tangibile della sua presenza a questa umanità, arida e smarrita, perché i Suoi figli potessero fortificarsi nella fede e potessero qui avere la possibilità di incontrare Dio, vivere Dio, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Ecco le tre tende che Dio ha posto su questa terra per dare compimento alle sue promesse. Ecco quelle tre alleanze che erano state profetizzate, con il popolo di Israele, la prima tenda, con il popolo cristiano, la seconda tenda, con i nuovi cristiani della Nuova Gerusalemme, la terza tenda. Ecco la terza tenda, preparata per il compimento di pace e per l'era dello Spirito Santo. Ecco che trovano compimento quelle parole che Gesù disse alla Samaritana. Né qui, al Pozzo di Giacobbe, né a Gerusalemme si adorerà Dio, ma nella Nuova Gerusalemme, dove Dio troverà veri adoratori in spirito e verità. E mai come in questi tempi è necessario salire su questo monte, in questi tempi duri e difficili, dove l'umanità sta sperimentando la propria impotenza e sta sperimentando tutta l'amarezza che produce la cattiveria dell'uomo. Tempi difficili, dove nuovamente da questa nube, qui scesa in questa terra, si ode la voce di Dio che si rivolge all'umanità per invitare l'umanità a salire sul monte scelto da Dio. Venite, salite sul monte santo, dove il figlio dell'uomo è sceso su una bianca nuvoletta per parlare ai cuori di tutti gli uomini animati dalla buona volontà. Qui il figlio di Dio è sceso per prenderci per mano e per accompagnarci uno per uno a vivere la nuova Gerusalemme, il cielo in terra. Padre, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questo ci ha insegnato Gesù a chiedere. Ed ora che tutto si sta compiendo, è necessario che i cuori comprendano bene questo passaggio, perché Dio ha deciso di porre fine al male che affligge questo mondo. Ecco perché ci ha donato questo rifugio sicuro, dove ognuno di noi può sperimentare la presenza viva di Dio. Gesù, bambino, qui è sceso realmente. Ecco perché siamo chiamati a rinnovarci. Ecco i nuovi cristiani, quei cristiani che hanno lavato la loro veste nel sangue dell'agnello per renderla candida e splendente, come la veste di Gesù che videro quegli amici, quei cristiani che vanno nelle vie del mondo con la gioia nel cuore per aver incontrato il Signore e cantano inni di gioia e, come disse Esaia, fuggono tristezza e pianto. Ci sarà una via nuova, una via santa, disse Esaia. Eccola, eccola, la via tracciata da Dio per ricondurre il cuore dei figli al cuore del Padre. Ecco questi cristiani desiderosi di contemplare Dio, desiderosi di alimentare e custodire quella dimora silenziosa che Dio ha stabilito nei nostri cuori quella preghiera viva, costante, incessante, perché noi sappiamo che soltanto nella preghiera e nell'unione fraterna, soltanto in quell'unione fraterna, in Cristo si potrà trovare la vera pace, non altrove. Solo in Cristo c'è la vera pace. e il mio pensiero in questo momento va a tanti che nel mondo sono afflitti dalla guerra a quelle terre martoriate e a tanti uomini e donne che vivono il dramma straziante della guerra per il delirio di onnipotenza di uomini senza Dio. Ai potenti del mondo dico, fermate la guerra. Gesù bambino qui è sceso per stabilire, per dare inizio e stabilire definitivamente il suo regno di pace ed amore. Il mondo non ha accolto il Dio bambino. Nuovamente non è stato compreso questo atto di infinita misericordia del Padre che dopo due conflitti bellici mondiali avrebbe voluto e avrebbe dovuto chiudere i propri occhi su questa umanità. E invece per la sua infinita misericordia il suo sguardo è stato attirato dal cuore puro di questa fanciulla Maria Giuseppina noccia che è nata che è nata proprio in quel periodo nel quaranta. Ecco quel cuore puro che ha attirato di nuovo lo sguardo d'amore del Padre su questa umanità arida e il Padre ha voluto dare a questa umanità una nuova opportunità una nuova possibilità l'ultima possibilità. Gesù lo disse è necessario che vi accostiate a questa mia seconda ed ultima grotta perché un'altra non me ne sarà mai più. Parole cadute nel vuoto. Nuovamente la misericordia di Dio è stata calpestata. Nuovamente il centro dell'infinita misericordia di Dio è stato calpestato dal mondo. la nuova Gerusalemme è stata calpestata e lo sappiamo bene. Parole cadute nel vuoto calpestata da chi pensa di poter fare a meno di Dio perché si è sostituito a Dio. Ecco fratelli cari tanto cari al cuore di Gesù e al cuore di Maria preghiamo con ancora più forza con ancora più convinzione ed entusiasmo perché il Signore possa veramente donare la pace a questo mondo che la deve cercare la pace in Cristo e preghiamo per tante vittime innocenti della cattiveria umana perché siano accolte nel cuore del Padre siano accolte per l'eternità nel cuore misericordioso del Padre. chi è ancora alla ricerca della verità salga su questo monte e sarà ripagato di tutti gli sforzi la fatica che costa salire sarà ripagata dalla grazia che qui si potrà sperimentare che qui noi già sperimentiamo che ancora cerca una speranza nel mondo venga in questa terra d'amore in questo angolo di paradiso dove il Signore vi aspetta per donarvi quella speranza che il mondo vi ha strappato venite correte il Signore ha preparato per voi una parte del suo cuore di bimbo che batte in questa culla voluta dal Padre e a chi ha già intrapreso questo cammino io ricordo a voi e ricordo a me non dimentichiamo mai quello che ha detto Gesù non chi dice Signore Signore erediterà il Regno promesso ma chi fa la volontà di Dio chi sale su questo monte col desiderio vivo sincero di mettersi in ascolto della parola di Dio per lasciarsi plasmare dalla parola del Signore non chi mette sempre davanti la propria volontà e chi pur di fare questo si serve della parola di Dio no attenzione ricordiamoci sempre quello che Gesù disse nella Catechesia a Maria Giuseppina Norcia i rapporti tra i fratelli della Nuova Gerusalemme devono essere diversi dai rapporti di coloro che vivono nel mondo senza rivalità di sentimenti gelosie altrimenti io faccio silenzio come se mi fossi dimenticato a quale ideale li avevo chiamati silenzio il silenzio di Dio la cosa più terribile ma noi vogliamo ascoltare la voce del Signore vogliamo ascoltare le sue parole di vita eterna e vogliamo seguire l'esempio di quegli amici Pietro Giacomo e Giovanni vogliamo salire sul monte scelto dal Signore vogliamo ascoltare la voce del figlio prediletto questo è il mio figlio prediletto disse quella voce ascoltatelo ascoltiamo la voce del Maestro che ci parla nell'intimo del nostro cuore ci fa comprendere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato cosa è bene e cosa è male ecco quell'obbedienza viva quell'obbedienza che è stata anche di quegli amici che ci hanno preceduto in questo cammino anche in quel momento vedete Gesù ordina loro di non dire nulla a nessuno di quello che avevano visto e loro non furono presi dal desiderio di voler dire tutto a tutti come spesso capita quando si sperimenta qualcosa di straordinario e io vi dico spesso capita perché c'è il desiderio di protagonismo perché non si vuole mettere a tacere il proprio io bisogna essere lieti sì gioiosi sì per tutto quello che abbiamo ricevuto ma bisogna essere umili umili e se il Signore ci fa comprendere che una cosa non va detta per preservare i tesori di Dio quella cosa non va detta se quegli amici avessero parlato prima del tempo non avrebbero reso un buon servizio a Gesù il Padre non voleva che quel mistero della resurrezione della trasfigurazione fosse svelato se non dopo la morte la passione la morte e la resurrezione del Figlio dobbiamo rispettare i tempi di Dio così come Maria e Gesù hanno fatto Maria che serbava tutte quelle cose nel suo cuore meditandole nel suo cuore è così come anche Gesù ha fatto nel suo cammino di uomo quello che spesso non si comprende pensando che Gesù sia nato imparato non è così ha dovuto fare il suo percorso di uomo poi lo spirito di cui era ripieno nel momento in cui si manifestava gli faceva comprendere e conoscere tutto in un momento ma lui ha dovuto fare il suo percorso ed è stato obbediente ed è stato obbediente a Giuseppe al suo papà putativo pur essendo il figlio di Dio ecco l'obbedienza ecco l'obbedienza che ci ha insegnato questa donna Maria Giuseppina Norcia sintesi come disse Gesù di tutti i patriarchi e di tutti i profeti colei che si è totalmente abbandonata alla volontà di Dio che è stata prudente ha serbato nel suo cuore le perle preziose donate da Dio per permettere a Dio di poter dare inizio a questo mistero d'amore per poter permettere a noi oggi di vivere questa Chiesa perché se lei non fosse stata così umile e obbediente noi oggi non potremmo essere qui non lo dimentichiamo mai ecco quella presenza viva e misteriosa che ci accompagna di questa donna che è viva è presente in mezzo a noi in un modo particolare misterioso è presente anche in colui a cui lei ci ha indirizzato il nostro pontefice la guida di questa Chiesa che ci invita a restare fedeli agli insegnamenti di Gesù e a vivere con entusiasmo questa chiamata per produrre frutti e non apparenze perché questo siamo chiamati a vivere questo è lo spirito che deve animare i nostri cuori perché noi non stiamo vivendo una favola questa non è una storiella che abbiamo letto sul libretto questa è una realtà viva e vera nuova e trasfigurata ecco i Cieli Nuovi è la Terra Nuova di cui parlò San Giovanni nell'Apocalisse non dobbiamo aspettarne altri eccoli e a voi giovani che vivete questo mistero e che siete tanto cari al cuore di Gesù io vi dico tanto cari anche al nostro cuore di ministri e di genitori io dico siate santi siate forti siate puri siate i santi della Nuova Gerusalemme i testimoni viventi del bambino divino qui sceso per stabilire con voi la sua nuova ed eterna alleanza lasciatevi trasfigurare dal nostro e vostro Gesù lasciate che il Signore prenda totalmente possesso della vostra vita vi guidi da ogni passo affinché tanti che qui accorreranno possano vedere in voi Gesù 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 vogliono vedere Gesù e chi farà loro vedere Gesù se non coloro che lo hanno vissuto fin dalla loro più tenere età e che hanno voluto seguire l'esempio di questa fanciulla che lo ha vissuto fin da quando era piccola Gesù e ha donato la sua vita perché tutti potessero viverlo e farlo vivere ecco il mistero di questa chiesa che era già nel suo cuore ecco questa chiesa voce di Dio in questo tempo duro e difficile ascoltate la voce di questa chiesa uomini tanti qui accorreranno per poter contemplare con i propri occhi l'opera di Dio e la sua persona che qui in Cristo e Maria sempre più sarà manifesta e noi le accoglieremo con tutto l'amore di cui saremo capaci affinché anche loro possano dire insieme a noi maestro è bello stare qui facciamo tre tende ormai è sera e il giorno del mondo volge al tramonto ma noi abbiamo visto che qui è sorto il tuo sole Signore e il tuo sole Signore non tramonterà mai più e il tuo che c'è l'amore